Nella vita soltanto, una volta o mai più, puoi trovare la persona che è giusta per te. A me è capitato in aereo, si volava di notte sopra un mare di buio. E allora io, io non sapevo che, incominciava lì col cebolo e che io, seduta accanto a lui, avrei capito tutto di me. Si parlava di niente, ma il bello era lì, proprio in mezzo alla gente io parlavo per lui. E lui parlava per me, e questo è importante quando il sole si sveglia. E lui parlava lì, incominciava lì, prendeva forma lì, dolce giorno e mai più, avrei trovato mai qualcuno come lui, come lui. Nella vita soltanto, una volta o mai più, puoi trovare la persona che è giusta per te. A me è capitato una volta, mentre il giorno si alzava, con il grido del sole. E proprio lì, è incominciato lì, è definito lì, dolce giorno e mai più, avrei trovato mai qualcuno come lui, come lui. A me è capitato una volta, mentre il giorno si alzava, con il giorno si alzava, con il giorno si alzava. Grazie a tutti.